Se da una parte si è messa in luce la stella di Kerstović dall'altra, prestazione negativa ed erudente di Romelu Lukaku che prende 5 per le reazioni infantacalcio.it. Il belga non era in serata, questa sera faticato, asfissiato da Baskirotto e Pongracic che l'hanno ripetutamente fermato. Un solo colpo di testa alto, una sponda per il Sherawi, nulla più, 22 pensate appena ai palloni giocati da Lukaku nella partita di Viedemmare. Una prestazione insufficiente e il 5 per lui.